bene allora seguiteci mi raccomando adesso abbiamo il primo keynote speaker della mattinata chiedo la regia di aprire il collegamento con mario nava oggi direttore generale della digi reform la direzione generale per il sostegno alle riforme strutturali bentrovato dottor nava buongiorno bentrovati a voi grazie mille dell'invito la digi reform lo dico per chi ci segue è un organismo della commissione europea che aiuta i singoli paesi dell'unione a disegnare e attuare le riforme strutturali per favorire la creazione di nuovi posti di lavoro e una crescita più sostenibile dottor nava tra i progetti più importanti a cui sta lavorando la digi reforma c'è anche la definizione di una nuova cornice per la gestione dei rischi isg nel settore finanziario di cosa si tratta esattamente guardi la questione è molto semplice nel senso che come abbiamo visto tutti l'estate che appena finita e che forse poi non è ancora finita perché fa ancora molto caldo i cambiamenti climatici non sono più una possibilità ma sono una realtà chiarissima e purtroppo si stanno anche si stanno anche accelerando alcuni dicono che quest'estate è stata la peggiore degli ultimi 500 anni altri però ci ricordano che probabilmente è la migliore la più fresca dei prossimi dei prossimi 50 quindi c'è la questione essenziale che è quella di intervenire nei temi ambientali e nei temi climatici in generale come interviene l'unione europea tipicamente interveniamo con tre pilastri di intervento il pilastro numero uno sono finanziamenti pubblici il pilastro numero due è il quadro regolamentare il pilastro numero tre è quello del sostegno alle riforme che è quello che fa la mia digi pilastro numero uno dei finanziamenti pubblici per la transizione verde come sappiamo la transizione verde è uno degli obiettivi principali dell'RRF era stato messo addirittura un minimo alle spese uguale al 37% del totale quindi su quello chiaramente c'è un investimento pubblico ingente addirittura prima nello Juncker Plan c'erano degli investimenti pubblici in quell'area che poi a sua volta attirano investimenti privati il quadro normativo all'interno del quadro normativo fanno parte le norme ISG cui lei ha fatto riferimento che vuol dire environment social and governance e sono delle norme che fanno in modo che chi investe in chi investe in varie attività lo faccia in una maniera che sia diciamo sostenibile nel senso in una maniera che permetta a questi tre elementi l'elemento ambientale l'elemento sociale e l'elemento di governance di avanzare o quantomeno di non fare investimenti che facciano indietreggiare il pianeta su questi temi quindi su quest'area c'è stato moltissima azione da parte della commissione avrete sicuramente sentito parlare della tassonomia la tassonomia è quell'insieme di norme il taxos viene da classificazione in greco è una classificazione degli investimenti che permettono un miglioramento dei parametri dei parametri ambientali e poi c'è il sostegno alle riforme che è quello che fa la mia la mia DG questo è un tema fondamentale perché queste materie non sono materie facili e sia gli investitori che gli asset managers che le piccole e medie imprese tutti hanno hanno l'idea chiara di quello che vogliono fare ma esattamente come farlo non è non è non è facile non è evidente e quindi si e quindi si pongono in essere delle azioni da parte nostra che permettono a chi desidera fare degli investimenti ISG di farli questo è assolutamente questo è assolutamente essenziale una manovra se volete di accompagnamento quindi non diciamo non non cambia la volontà dell'investitore ma semplicemente la accompagna nella direzione che l'investitore stesso vuole davvero un progetto molto interessante sono convinto che molti intermediari molti operatori nell'ambito del settore finanziario non siano ancora bene attrezzati ecco dottor Nava come posizionata l'Italia più in generale su questo fronte? Guardi l'Italia su questo fronte si posiziona bene soprattutto grazie al PNR l'Italia si è posizionata molto bene su tutte le questioni della transizione verde noi di progetti vi dicevo prima i progetti di accompagnamento per esempio un progetto di accompagnamento nel settore finanziario in Italia legato alla strategia per la finanza sostenibile è stato quello dell'elaborazione di un quadro per le obbligazioni sovrane verdi le cosiddette i cosiddetti sovereign green bonds addirittura la stampa ha detto che questo lavoro fatto in Italia ha costituito la più grande obbligazione verde sovrana di un emittente europeo ad oggi a prescindere se sia la prima o la seconda poco importa quello che importa però è che facendo un'operazione di questo tipo si dà diciamo una direzione al mercato e attorno a questa direzione al mercato ci sono poi tutta una serie di altri interventi che permettono alle obbligazioni sovrane verdi di avere un mercato consistente quindi c'è per esempio la questione dell'alfabetizzazione finanziaria sostenibile c'è la questione della comunicazione delle informazioni c'è la questione di sostenere le piccole e medie imprese in tutte le loro fasi fondamentali del percorso di transizione c'è la questione di utilizzare dei regimi di sostegno pubblico che siano adeguati è importante capire che questo tipo di interventi si fa sia tanto dal lato finanziario tipo con le obbligazioni sovrane cui ho appena fatto riferimento che anche dal lato reale sul lato reale avrete sono sicuro sentito parlare del Repower EU il Repower EU è un piano che la Commissione ha proposto a maggio dell'anno scorso e che andrà ad integrare i PNR e andrà ad integrare i PNR per permettere ai paesi europei di liberarsi dall'uso delle risorse fossili di provenienza russa e di farlo in tre maniere una è con la riduzione degli sprechi e l'attenzione ai consumi l'altra è la diversificazione delle fonti e la terza è il rinnovabile quindi ancora una volta il rinnovabile si ricollega all'ISG la cosa importante da capire è che non c'è un silver bullet che funziona per tutti ma è un insieme di lavori e di norme che permette un buon funzionamento però insisto molto su questa corrispondenza tra il lato finanziario e il lato reale Molto chiaro, grazie mille Dottor Nava pensavo uno degli obiettivi della DG Reforma, lo accennava Pier prima è quello di supportare i paesi nelle riforme per favorire la creazione di nuovi posti di lavoro da questo punto di vista il gender gap rappresenta un grave problema risolto dell'Italia basti pensare che il tasso di partecipazione delle donne alla forza lavoro si aggira intorno al 50% a fronte di una media europea del 63% quindi le chiederei quali sono i progetti a cui state lavorando appunto con l'Italia Sì, grazie dell'ottima domanda devo dire questa è una delle questioni centrali e per tornare all'ISG di cui si parlava prima tocca sia l'aspetto S che l'aspetto G noi abbiamo lanciato come DG Reforma un annetto fa un progetto faro li chiamiamo flagship che vuol dire sono i progetti faro che spesso vengono declinati in progetto multipaese in questo caso il progetto multipaese ha coinvolto sia degli stati l'Irlanda, l'Italia, il Portogallo, la Romania ma anche per esempio dei Lender, dei Lender tedeschi il Lender di Berlino, di Hamburgo, Sachsen-Hahn e anche delle città, la città di Strasburgo in Francia eccetera questo coordinamento a diversi livelli sia a livello diciamo federale che quello regionale che quello comunale o locale è un elemento abbastanza importante perché spesso la questione del gender mainstreaming è una questione che tocca molti livelli di governo quello che stiamo facendo è sfruttando la diversità dei livelli di governo fare in modo che ci sia uno scambio di buone pratiche che ci sia uno scambio di per esempio funzionari che ci sia un meccanismo che permetta di sensibilizzare le diverse amministrazioni pubbliche sulle pratiche che altri stanno facendo qui è un po' come il punto che dicevo prima tutti siamo d'accordo sul fatto che bisogna migliorare questa questione è proprio importante cercare di vedere come migliorarla e spesso si impara moltissimo attraverso le pratiche che fanno gli altri che ovviamente sono contesti diversi e hanno bisogno di essere adattate ma sono comunque degli insegnamenti utili il punto centrale però è quello di sviluppare si chiama cultura della pianificazione pubblica in modo che quando si fa un'azione sia esso un'azione finanziaria quindi con dei denari che è un'azione regolamentare che ci si ponga la domanda e qui è l'aspetto culturale ci si ponga la domanda di qual è l'impatto di questa determinata azione sull'impiego femminile porsi questa domanda è assolutamente il primo passo per esempio in Italia lei mi ha chiesto noi stiamo lavorando molto con il Dipartimento delle Pari Opportunità con la Ministra Bonetti e questo lavoro con la Ministra Bonetti ci sta dando molta soddisfazione perché permette di sviluppare una cosiddetta certificazione della parità di genere da parte delle imprese private come dicevo ancora una volta non c'è un modo unico di farlo però certamente attraverso diversi tentativi ma soprattutto attraverso l'instaurazione di una cultura di una determinazione a fare in modo che qualunque azione promuova e non danneggi la parità di genere nel mercato del lavoro si riescano a fare progressi significativi grazie dottor Nava credo che iniziative come queste possano portare davvero valore al nostro paese ma invece quali sono le richieste degli altri paesi in materia di genere? anche questa domanda è ottima perché proprio guardando agli altri paesi come dicevo che si impara direi guardando agli altri paesi le cito un po' a memoria e sicuramente non faccio giustizia a tutti una per esempio in Ungheria sull'employment gap quindi la differenza di genere è il primissimo dato che lei ha citato un'altra in Irlanda e in Spagna in Spagna in particolare c'è un'attenzione molto particolare quando si fa state budgeting a rispettare i cosiddetti sustainable development goals che al loro interno includono l'eguaglianza di genere in Austria e in Slovenia c'è stato un progetto abbastanza recente per facilitare l'accesso delle donne a quei settori dove non ce ne sono abbastanza forse uno dei settori più maschili è quello della finanza e quindi l'accesso delle donne alla finanza in altri paesi in Grecia e in Lituania stessa logica però è l'accesso delle donne alla vita politica e al decision making e in altri ancora assicurarsi che ci sia un gender mainstreaming nelle politiche per le piccole e medie imprese per esempio in Bulgaria dove le piccole e medie imprese costituiscono un tessuto importante dell'economia ancora una volta qui ovviamente dipende da un paese all'altro ci sono alcuni paesi che non hanno assolutamente i problemi di altri però è assolutamente essenziale che questo succeda e devo dire che negli ultimi anni senza voler fare delle generalizzazioni troppo banali però devo dire che negli ultimi anni c'è stato sicuramente un crescendo nelle domande a tutti i livelli come dicevo prima a livello locale regionale statale e credo mi permetto di dire che questo sia dovuto alla leadership della Commissione Europea da parte di Ursula von der Leyen e che sulle questioni di genere ha un fortissimo supporto da parte della nostra commissaria Elisa Ferreira Grazie a Mario Nava direttore generale di Digi Reform per essere stato qui con noi oggi Grazie davvero Grazie mille a loro buon lavoro Grazie a tutti